Mirta, addio! È arrivata la sostituta! Prima di iniziare questa incredibile storia, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip! Siamo davvero felici di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo incredibile racconto. Mediaset, il gigante dell'intrattenimento televisivo, potrebbe rivoluzionare la sua programmazione pomeridiana. Mirta Merlino, la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, potrebbe essere sostituita, poiché il programma sta affrontando una serie di difficoltà, inclusi ascolti in calo e la concorrenza della RAI. I telespettatori si lamentano dell'eccessiva cronaca nera nel programma di Merlino, definendolo deprimente e poco spontaneo rispetto alla conduzione di Barbara D'Urso. Si discute anche di una possibile sostituzione con Simona Branchetti. Mirta Merlino sta attraversando un periodo difficile a Mediaset, con risultati negativi in termini di ascolti e la mancanza di un successore convincente a Barbara D'Urso. Ora, cosa ne pensate di questi cambiamenti? Volete veramente che Mirta Merlino non conduca più Pomeriggio 5? Lasciateci i vostri commenti. Alla prossima!